Peccato per come è finita, peccato per come abbiamo gestito la palla negli ultimi minuti. Troppa confusione, anzi forse negli ultimi minuti lo posso anche capire. Ma nella fase centrale del secondo tempo tanti spazi per noi, tanti tentativi di loro per andare dentro. Quindi avevamo tanto spazio per ripartire, per essere un po' più pericolosi in fase di contropiede. Abbiamo avuto le nostre occasioni sia nel primo che nel secondo tempo con Artem. Non siamo riusciti a chiuderla e poi è finita come è finita. Un'espulsione forse eccessiva e un rigore clamoroso non dato a Dybala in tempi di VAR. Resta sempre un po' di rammarico. Sì, il rigore penso si commenti da solo. L'espulsione non ci siamo capiti. Lui stava protestando per il fallo, pensavo fosse fallo su Pellegrini. Forse riguardandolo non lo era. Ma mi ha detto di non protestare più e io ho detto ma non posso parlare. E mi ha buttato fuori, mi è andato il secondo giallo. Quindi penso qualcosa di abbastanza leggero. Eppure vabbè, è andata così. Non è quella la cosa che mi dispiace più oggi.